Ciao ragazzi, in questo video oggi parliamo di Fortnite. Allora, perché sto parlando di Fortnite? Perché io una volta ero campione del mondo di Fortnite. Ho fatto una partita con... con... vabbè... con altri giovedoni che voglio farci vedere. Quindi qua vado, ma... ma... ho un casino che... io volevo cercare solo. Dopo un gruppo mi ha fatto... più che il video. Vado a calci sua. Vabbè, facciamo meglio. Poi... il canale di Vald, che andiamo a vedere. io ce l'ero molto bene giocato. Ehm... ecco qua. Andiamo su. perché... o questa l'avremmo iniziata... su Fortnite... ma andate a vedere... quella su Rocket League che è durata... eccola... che è... davvero che gioca... cioè... che è la mia... no... ma... io vado dalle case... io vado quelle in affitto. vado... 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 guarda... oggi ero molto bene... come... la partita... e... cioè... la partita... che... era... il campione del mondo... io ero... 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 finisce di giocare a tutto il gioco... perché... non ero bravo a te d'acce... però... ti posso dire... quel giorno mi ha piaciuto... un anno sotto l'anno... mi ha piaciuto perché... era... un gioco... bellissimo era... perché... io alla volta c'avevo... non c'avevo niente... non c'avevo marco... non c'avevo... e poi... era stato un bel bel giorno... e poi... ero... ero... per dire... non ero forte... un giorno... poi... mi ha piaciuto... ma... un piano piano... che parli bene bene... un sano... che andava... ma... ma c'è un'occa... c'è un'occa... c'è un'occa... c'è un'occa di un'occa in centro e si vuoi, ci vuoi un'occa... non, 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 non... che cazzo è il problema? si sa più a me si sa più a me si sa più a me va beh a forza però io ho amato da il simo e anche le borrissa allora voglio fare un video che ho spaccato in cui agli amici con gli amici mia e poi ciò con il video ok ecco qua il primo amico combattuto era un amico sii il primo video oggi siamo sul libro 6 allora ok non potete capire qualcosa che che il peccato era solo un amico che si era ho cercato sul ho vado a di che cosa fa un'unica live si è un'unico e come qua che riavo maxima boschini ehehehe capo il è l'esbico e cadere tu come a riusci che cosa è l'esbico ah E poi c'era la bambina che sollevistà. So, meglio mai voglio chiedere. Aspetta che ci sono il video, non? Ok. 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 Allie ecco, beh. Ehm... E poi io devo... Avevo gico, so la bambina, e la bambina, e la bambina, e la bambina, e la bambina ancora. Ecco là. Allo? Allo, ciao. Come va? Come va? Come va? Alla, beanna. Osa, c'è stata inzita. Osa la ropa? Eh sì. Avevo pagato qua, però... Ori d'orpa. Alla, come ti ho? Ah io c'è vero un... Io c'è vero un piano di oberagori. Piero... che fa un rivogno. C'è giuro, io c'avevo Gork, c'avevo Asher, c'avevo io per la goglia, perché avevo sciopato, famogliaia. L'amagonia, miro favore la webcam. Qua ero, la bestia io, qua ero, la perfa, posso te gare anche dove, dove va sugiurare, ok. Questa era una partia gordo, con un mio amico, non era forte, era la pipa al sugo, e alla fine ho visto io. Era un capitolo del mondo qua io ero, e soprattutto un gioco. Comunque non era un gioco, cioè dove dici, cioè ero un canzone, ero un canzone del mondo, non ero un canzone, no? Sto dicendo. Però quel gioco mi ha fatto molto di freddere, cioè di freddere il cervello, perché me la comprerò male nel quel gioco. Io ero, io ero, io ho detto, non mi lo comprerò, mi lo comprerò al giorno, perché un giorno. Poi invece, e... mi ha scoperto lui, perché, per farmi regalo. E infatti ho avuto, ho detto, oh, e basta, non andare via, grazie a farlo, non andare via. Perché mi è successo? Allora, c'è una cosa che è, magari il gioco, in vano. Io non c'erivo un valore, perché mi ha fatto una sorpresa. Ho fatto arrivare a casa di papà, l'ho provato, e mi sono allenato molto, perché... sono un paese che mi ha fatto. E qua ho chivo qua e... O io non ci vediamo. Sarà, ci. Cia, cia! Cia, cia! Cia, 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 cia! Cia, 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 cia. poi poi arrivo a un momento di riquezza con la mia vince che è un momento, no? poi già vedo, già vedo, già vedo, già vedo, già vedo. con i operatori di voi, mamma mia, se io vorrei giocare a voi, però con forza mia, con forza proprio, perché c'è ancora i compruzioni, eccola, che palla. Io vorrei crescere ancora, così se mi passano, e quando mi passano, c'è il giorno a te. E dopo hai ancora il grasso sale sul creare, e già. Ma credo volarmo il giorno. E già. Il volume, già non so come si vede, perché mi sono imparato subito, come si vede il volume, mi gioco, qua ho fatto una cosa epica, guardate, ora le faccio vedere, però è andato, allora stavo facendo subito, una o una stava. che è successo. Alla fine lui ha fatto, perché guardate che è successo. che è arrivato al quadro. Adunami. io ho fatto, siamo arrivati a un cattivare, ora vediamo, ora vediamo, ora vediamo. è un cattivato. è un cattivato. è non cattivato. a OI COGIO OI COGIO OI COGIO HAHAHAHAHA CORPO MAI FATTA OILI OI 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 ONI OI 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 I I I I OI e sarà bella, ci vediamo il prossimo video, ciao ragazzo, faccio un piccolo ragazzo, ciao signore!